L'Europa si divide sui migranti al Consiglio a Bruxelles, che è finito senza adottare le conclusioni sulle migrazioni dopo l'opposizione di Polonia e Ungheria. La Polonia e l'Ungheria si sono dette contrarie sia alla sostanza che al metodo con cui si è arrivati ad approvare il patto sulla migrazione, ha spiegato il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, nelle sue conclusioni, che hanno sostituito quelle approvate da tutti, ricordando che comunque gli altri 25 paesi erano tutti d'accordo. Polonia e Ungheria, invece, sono contrari del patto di migrazione e asilo, approvato dai ministri dell'interno dell'Unione Europea a maggioranza qualificata l'8 giugno a Lussemburgo, che prevede la ricollocazione dei migranti dai paesi di primo ingresso, come l'Italia, pena un contributo finanziario a persona non ricollocata. A tentare la mediazione, poi fallita, la Premier Giorgia Meloni, in un trilaterale a conclusione della prima giornata di Vertice. No, non sono delusa dall'atteggiamento di Polonia e Ungheria, io non sono mai delusa da chi difende i propri interessi nazionali. L'atteggiamento, la scelta di Polonia e Ungheria non riguarda quello che è la mia priorità in tema di immigrazione, cioè la dimensione esterna, riguarda la dimensione interna, cioè il patto di immigrazione e asilo. Secondo Meloni, in ogni caso, il patto sull'immigrazione non è sciammaccato, perché non era in discussione al Consiglio, non è un tema che si riapre, ha detto.